Buongiorno a tutti, buongiorno ad Alessandra Viola, curatrice di questo festival e buongiorno a Marco Filoni, curatore di questo festival. Scusate l'attesa, naturalmente abbiamo aspettato qualche minuto perché l'evento che si sta tenendo all'auditorium è appena terminato e quindi il pubblico che piano piano defluirà e verrà a ascoltare questa maratona per l'ambiente. Ecco, prima di invitare i nostri ospiti e quindi entrare nel vivo di questa maratona, io vorrei fare una domanda alla curatrice. Il festival è stato abbastanza complicato, come voi sapete sarebbe dovuto tenersi a settembre, poi per via delle elezioni politiche è stato posticipato e nel cambiamento, nel posticipo abbiamo dovuto rinunciare ad alcuni luoghi all'aperto e quindi tutti gli incontri che avevamo originariamente pensato con Alessandra avevamo difficoltà a tenerli, quindi abbiamo pensato a una maratona. Ecco, come ce la immaginiamo questa maratona, Ale? Allora, intanto perché abbiamo scelto questa formula della maratona, direi che partirei da qui. Avevamo tante parole, tanti concetti un po' che ci ronzavano in testa mentre organizzavamo il festival, no Marco? Queste parole, questi concetti tornavano e avevano bisogno un po' di essere raccontati, di essere declinati in qualche modo e rendevano un po' conto della complessità, perché poi alla fine l'ambiente è una questione complicata, insomma, è una questione difficile, ci sono tanti fattori che concorrono alla nostra visione dell'ambiente e è veramente necessario prendere coscienza un po' di quanti e quali punti di vista ci siano e quanti e quali interventi siano necessari. Allora a questo punto perché non dare voce a tutti gli attori in campo che si confrontano uno dopo l'altro, così spremuti un po' da un filosofo e un po' da una comunicatrice della scienza, in modo tale che possiamo cavarne il meglio per il nostro pubblico? Tra l'altro io sono molto grato ad Alessandra perché, come lei ha ricordato di formazione, sono un filosofo. Cosa fanno i filosofi quando parlano di ambiente? Mi interessa perché Alessandra l'altro giorno mi ha fatto una domanda, mi ha detto ma tra i filosofi ma c'è qualcuno ottimista? Ecco la risposta è no, i filosofi sono tutti catastrofisti. Allora proviamo oggi a ragionare anche su questo, cioè davvero, ok, siamo messi male e questo lo sappiamo tutti, non ci vogliono i filosofi per prendere coscienza della situazione ambientale e dei cambiamenti climatici, ne parleremo nel corso della giornata. Però per quale motivo? Abbiamo diritto ad avere speranza? Ecco questa è un po' una sottotraccia che attraverserà questi incontri di oggi. Però io direi... È bella l'idea che poi invece gli scienziati o i ricercatori siano più ottimisti, cosa che temo non si verifichi. Guarda, non so, di solito i filosofi non capiscono bene quello di cui parlano. Quando parlano di scienza io ho l'impressione che ci sia davvero una crasi tra ciò che dicono e la comprensione di ciò che dicono, che è un po' quello che succede oggi con l'intelligenza artificiale, no? Tutti noi sappiamo cos'è ma nessuno di noi, fatto salvo gli ingegneri informatici che scrivono i codici, sanno come funziona. È una black box. Ecco, sulle questioni ambientali spesso si ha la sensazione che è un po' una black box. Cioè noi sappiamo che stiamo correndo un rischio ma abbiamo le competenze necessarie per comprendere la reale percezione, il reale pericolo. Insomma, anche di questo sarà bello interrogare i nostri ospiti. Io inizierei, che dici? Naturalmente. Perché la maratona è lunga così. Alessandro Zaccuri, un applauso. Un applauso. Subito sul palco. Ciao Alessandro. Benvenuto. Allora, abbiamo iniziato per parlare di ambiente da uno scrittore, che è un approccio un po' strano se volete, no? Però è uno scrittore molto particolare, perché Zaccuri è anche un giornalista. E poi ha scritto il suo ultimo libro per una casa editrice, anch'essa molto particolare, che è la casa editrice Abboca, che ha lanciato una nuova collana. Pensate, in un periodo in cui l'editoria è tutta in crisi e insomma fa molta fatica a stare al passo, anche con i tempi, con i costi della carta e con tutte le proposte editoriali, ha lanciato una nuova collana proprio sugli alberi. Allora, la prima domanda che vorrei fare è, perché scrivere a partire da un albero? Qual è il valore aggiunto di cercare un oggetto comune, albero, dal quale farsi ispirare? Allora, intanto grazie dell'invito, grazie ai curatori, alla curatrice, buongiorno a tutti. Ma è un po' la domanda che credo si sono posti tutti gli autori e le autrici che sono state coinvolti in questo progetto, che è il Bosco degli scrittori, appunto, di Abboca, ed è un progetto nel quale sostanzialmente si dà mano libera all'autore, all'autrice, purché ci sia appunto la presenza di una pianta, di un albero, di un bosco, di un fiore, di una foglia, insomma, di qualcosa che ci riporti all'elemento botanico, naturale, al contatto con la terra. E ognuno ovviamente ha risposto in maniera differente. Nel mio caso, io ho scritto questo libro che si intitola La Quercia di Bruegel, ed è un libro che in realtà in parte fortunatamente avevo già in mente, perché io amo molto la pittura di Bruegel il Vecchio, è una pittura molto popolata da alberi, c'è un racconto molto bello di un autore tedesco dove appunto si immagina, questa è la solennità del momento, c'è uno, si bruegel e partono le campane, è una cosa bellissima questa. Intanto è mezzogiorno, dobbiamo aspettare tutta la cosa. Ma forse si sente, no? Si sente? Ho paura che parta l'Angelus dopo, tin 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 tin, vabbè, proviamo. Dicevo, Bruegel c'è un racconto di un autore tedesco, Gert Hofmann, che immagina per esempio come è stato dipinto uno dei capolavori di Bruegel, che tra l'altro sta in Italia, sta a Capodimonte, a Napoli, che è la parabola dei ciechi e questi ciechi che vengono presi come, quindi che non vedono, che vengono presi come modello dal pittore, a un certo punto chiedono al bambino che li ha reclutati e dice ma che cosa dipinge questo pittore? E il bambino dice dipinge tanti alberi. E perché dipinge gli alberi? Ma forse perché così si possono vedere. Ora in questa battuta, per ripingere qualcosa perché così si possa vedere, secondo me c'è tutta la possibilità narrativa che si apre nel contemplare non tanto l'albero ma l'immagine di un albero come la restituisce un grande pittore e poi c'è quello che scrivendo questo libro che in realtà è uscito nel 21, è uscito subito dopo la fase acuta della pandemia e che in qualche maniera è anche, l'idea c'era prima però poi l'elaborazione è avvenuta durante la pandemia, cioè ragionando su questa cosa mi sono reso conto, mi è sembrato di poter intuire diciamo così, che gli alberi hanno anche un valore politico, intanto perché appunto è qualcosa che una volta che è dipinto si può vedere, per l'amore del cielo, questo vale per tutti. Però gli alberi segnano sempre, sono una presenza che molte volte segna anche un confine, segna anche l'inizio o la fine di un territorio e nel dipinto particolare di Bruegel, del quale scrivo in questo libro che è il censimento di Betlemme che è conservato a Bruxelles, addirittura l'albero diventa l'immaginazione dell'oltre, quindi diventa lo spazio del progetto, diventa lo spazio forse perfino dell'utopia, anche di una dimensione spirituale. In questo quadro che è una raffigurazione molto alla Bruegel, quindi con la capanna in cui nasce Gesù Bambino in un angolo quasi nascosta, molto buia e gran parte del quadro invece è occupata da una scena di vita, di un villaggio fiammingo, una Betlemme ovviamente immaginata nel cuore dell'Europa continentale, a un certo punto su una parete diroccata, ci sono già tanti alberi nel dipinto e si apre una finestrella in cui appunto tu vedi un altro albero ancora, del quale non si sente la bancanza, né della finestrella né dell'albero, però è come marcare uno spazio dell'altrove. Dicevo che il libro è stato, ha preso forma, non proprio scritto ma ha preso forma nell'immaginazione durante il lockdown, quello più severo della primavera del 20, ed è stato favorito anche da una circostanza molto personale, come sono sempre personali le circostanze che intervengono quando si scrive o anche quando non si scrive, la vita di ciascuno è fatta di cose personali. Io abito a Milano, in una zona non centrale, che però ha la grande fortuna di affacciarsi su un bosco, un parco agricolo in realtà, però insomma noi da casa, mentre tanti altri nostri concittadini vedevano il muro del palazzo di fronte, vedevamo gli alberi. In quei giorni rendendomi conto, rendendoci conto in famiglia con l'esperienza di quanto quella presenza degli alberi fosse misteriosamente confortante, in quel momento invece di grande preoccupazione, di grande tensione, c'è una poesia di Robert Frost che lo dice molto bene, diceva che ma che cosa hanno gli alberi di così particolare che noi di qualsiasi, più di ogni altra voce vogliamo sentire la voce che viene dalla loro vicinanza. E questo è un altro elemento, l'albero è qualcosa che si vede, l'albero è qualcosa che ha una sua voce silenziosa, che è una voce che entra in relazione con altre voci, che è favorita dal vento, che è favorita dal... Devo dire che durante quel periodo della pandemia mi sono reso conto di quanto appunto la presenza o l'assenza di un albero, il contatto o il distacco totale rispetto alla natura faccia davvero la differenza, anche nell'affrontare la prova, eccetera. E da lì ho anche ripreso a guardare in maniera diversa la presenza degli alberi nei contesti urbane, per esempio, che sono molte volte una presenza controllata, una presenza vigilata, certificata, eccetera. Ma ci sono anche parti delle città, anche delle grandi città, in cui c'è invece una vegetazione spontanea, per esempio, che ha anche quella, a mio avviso, un valore che potremmo... uno dei valori che fa parte dei valori della politica, che è quello dell'essere in qualche maniera indomito, cioè una presenza indomita, cioè la cosa classica, proverbiale, dell'arbusto che spacca il cemento e nonostante tutto continua a fiorire, come avrebbe detto un grande poeta italiano, Carlo Betocchi, insiste nel fiorire anche d'autunno, anche quando viene il freddo, anche quando viene la minaccia. Credo che questo valore dell'essere indomito, dell'essere coraggioso, dell'essere intraprendente e imprevedibile siano tutti valori che si riferiscono molto bene alla politica. Ecco, quindi questo albero che viene raccontato e che quindi per la prima volta si può vedere, si fa vedere per il suo esserci in forma narrativa, assume subito una connotazione anche politica, no? Nel senso proprio che diventa quasi un altro elemento del vivere insieme, del vivere cittadino. Che cosa cambia nel lettore quando scopre questo albero che è parte della della storia? La storia ha una struttura, che è una struttura che a me piace molto da lettore, cioè che è la struttura un po' classica della novella Trotto e Novecento, c'è qualcuno che ascolta qualcun altro che racconta una storia. Ha suonata Kreuz, tantissimo Conrad, io lo trovo un dispositivo narrativo molto semplice ma molto accattivante, anche perché di solito questo avviene in una situazione un po' di eccezione e di emergenza, quindi la carrozza ferroviaria, la nave, comunque un momento di sosta. Poi la sosta della letteratura è sempre una sosta fantasmatica, l'Orgim dura 300 pagine e noi dobbiamo credere che davvero Marlowe le racconti in una sera solo, stando sulla veranda davanti al Grande Fiume. Ma al di là di questo, c'è questo racconto che viene riferito. Il racconto che viene riferito è il racconto di una difficoltà di percezione della realtà, c'è una donna che è un medico che racconta di questo suo paziente che per qualche strano motivo dopo un incidente non vede più l'intero ma vede i dettagli e riesce a vedere in particolare i dettagli dei dipinti di Bruegel, il vecchio. È un caso clinico un po' inventato, anche se uno legge Oliver Sacks ne trova anche di più strani in realtà. L'idea era di partire dall'importanza del dettaglio e questo, se vogliamo continuare in questo gioco tra letteratura e politica, il prendersi cura del dettaglio, il prendersi cura del piccolo, il prendersi cioè costituire il piccolo come parametro anche della convivenza democratica e dell'esperienza estetica. Alla fine è, secondo me, qualcosa di molto importante e di molto attuale. Poi c'è una cosa che io trovo particolarmente affascinante nel tentare di raccontare i dipinti di un pittore come Bruegel, il vecchio, che è un pittore molto presente nell'immaginario contemporaneo. Credo che ciascuno di noi sia stato almeno in un paio di ristoranti, pizzerie che espongono il famoso dipinto del banchetto delle nozze contadine che ha dentro anche lì una bellissima una bellissima metafora politica perché non so se lo ricordate, ci sono queste persone convenute in una stanza e ci sono questi inservienti che stanno portando i piatti della zuppa su quello che sembra un enorme vassoio. Ecco, in realtà l'enorme vassoio è una porta che è stata scardinata. Quest'idea che viene un giorno nella convivenza tra le persone in cui la porta, che è quello che isola, in realtà viene tolto perché dobbiamo condividere qualcosa insieme, dobbiamo condividere la festa, eccetera, anche questa mi sembra un'idea particolarmente bella. Finisco, di lui in realtà sappiamo pochissimo, quindi ci possiamo inventare moltissimo e l'immaginazione è una, forse è la virtù politica per eccellenza. Dobbiamo condividere anche i microfoni, ne abbiamo soltanto due, quindi scusateci. Mi piaceva molto questa cosa che dicevi sull'immaginazione politica, la storia politica penso all'affresco del 300, della Sala dei Comuni di Siena, del buono e del cattivo governo, eccetera, eccetera. Però c'è una cosa del tuo discorso, in particolar modo quando dicevi dell'aspetto politico, allora naturalmente ne parleremo poi con altri ospiti, penso a Chiarucci, penso a Luca Molinari con il quale discuteremo di rigenerazione urbana e quindi anche delle politiche del verde. Ci hanno detto e continuano a dirci, e non ho alcun dubbio che sia vero, che dobbiamo piantare alberi nelle nostre città, dobbiamo far sì, ci sono dei paesaggisti, come Gilles Cleman anche dice, che la natura deve riappropriarsi dei nostri centri urbani, eccetera. Ecco, allora a me veniva in mente questa immagine, che magari è una stupidaggine, mi dirai tu. La politica ha bisogno di immaginazione, ma la politica forse ha bisogno anche di poetica, di poesia, nel senso che Gilles Cleman nel suo ribadire la forza del verde e come il verde deve riappropriarsi dei nostri centri urbani dice, testuali parole, c'è bisogno di una poetica del verde, di una poetica delle piante, cioè dobbiamo far sì che siamo in grado di riconoscere questa cosa che solitamente noi non gli diamo alcuna valenza politica, la poesia, così come non diamo nessuna valenza politica alla letteratura, invece io credo che dobbiamo rivalutare il nostro sguardo da questo punto di vista e mi ritrovo molto con quello che dicevi tu, non so se sei d'accordo. Sì, sì, io sono molto d'accordo, una delle cose che si invidiano alla tradizione anglosassono per esempio è questa idea del poeta laureato, che è il poeta della regina, che è il poeta del presidente degli Stati Uniti, che è il motivo per cui poi vabbè le cose sono andate come sono andate, però se ricordiamo la cerimonia di insediamento del presidente Biden, questa giovanissima poetessa Amanda Gorman che declama questi versi che tra l'altro sono molto contaminati col gusto dei giovani, quindi con un certo ritmo anche del rap eccetera, comunque è un momento che dice qualcosa di una cultura politica, non tanto di una parte rispetto all'altra. Io credo che rivalutare, cioè il verde per esempio, gli alberi nelle città o comunque il pensiero della natura rispetto al paesaggio, siamo in una zona che con gli studi di Turi è stata proprio portata esempio di come il paesaggio, l'esempio classico, l'emarginazione dell'elemento naturale a favore, cioè la cascina soppiantata dal capannone e il capannone poi soppiantato dal centro commerciale, il centro commerciale poi desertificato dalla crisi, ecco quindi questa serie di passaggi. Secondo me quello che porta appunto il verde, l'albero, la pianta nel pensiero politico è la consapevolezza che dobbiamo rassegnarci all'idea che abbiamo visto in atto tante volte in questi ultimi anni, negli ultimi decenni, che se noi insistiamo soltanto sull'elemento funzionale della gestione della cosa pubblica alla fine non funziona più niente, cioè se noi non ci mettiamo dentro un di più di immaginazione, un di più di fantasia, un di più di generosità nei confronti della realtà alla fine non funziona più niente. Tra l'altro, è una cosa un po' buffa, però diciamo, io ho lavorato tanto nei giornali, giornali di carta eccetera, e una cosa che si diceva, che io in realtà ho sempre visto molto vera, è che per esempio i migliori a fare i titoli erano i lettori di poesia, i lettori di poesia, non dico gli aspiranti poeti, perché comunque la poesia ti abitua a un pensiero sintetico e a un pensiero per immagini che ti viene comodo quando poi devi fare il titolo. Quindi è tutto il tema dell'inutilità dell'inutile, cose di cui abbiamo parlato tanto, ma a volte rischiamo di parlarne in maniera un po' idealistica e consolatoria. La bellezza di una storia come quella appunto di Brugge del Vecchio, del quale come accennavo prima, sappiamo pochissimo dal punto di vista biografico, ma una cosa la sappiamo, che lui vive in un periodo di conflitti e i suoi dipinti che a volte ci stordiscono quasi per bellezza, portano sempre il segno di quel conflitto. C'è un dipinto famosissimo che è conservato a Vienna, che è la conversione di Paolo, di Saulo anzi, e cosa succede rispetto al trattamento che ne fa poi Caravaggio, in cui c'è solo il cavallo, c'è solo il Saulo caduto? Lì non lo vedi praticamente, la cura del dettaglio, prendersi tempo per essere attenti e vedi un esercito che sta passando le Alpi e in mezzo a questo esercito c'è qualcuno, qualcuno che cade da cavallo e quello è Saulo. Oppure, per stare forse sul dipinto più, uno dei dipinti più boschivi, diciamo, di Bruegel, che è la predicazione di Giovanni Battista, un quadro meraviglioso, quello è un quadro in cui tu vedi il Battista non sulla riva del fiume ma in un bosco, non capisci perché, perché ti distrai guardando le fogge degli abiti, eccetera, e poi ti puoi ricordare eventualmente che erano i calvinisti che predicavano nei boschi in quel momento perché erano espulsi dalle città. Quindi lui riesce a tenere un tema religioso, lui è un uomo molto prudente, non dice mai quanto simpatizza con la riforma, quanto invece rimane legato alla Chiesa di Roma e in quel momento nelle terre dove vive è anche questione di vita o di morte in alcuni casi, però riesce a prendere un elemento, diciamo, dell'attualità politica, religiosa e politica e trasfigurarlo in maniera poetica. E poi, l'ultimo quadro che cito, ma si trovano tutti molto facilmente in rete o se avete delle pubblicazioni a casa, c'è un quadro bellissimo che è ambientato in un bosco, che è un quadro politico, anche quello mi ha avviso, che è la gazza sulla forca, c'è un bosco, ci sono i soliti contadini che ballano un po' ignari e c'è una gazza che si è posata su una forca che è ricavata tagliando un albero. Quindi l'ambiguità anche della realtà. Io posso fare della realtà cose diverse. Posso anche la presenza dell'albero volgerla da familiare a minacciosa, con questa immagine della forca. Credo che sia, appunto, per me è un esercizio di immaginazione, se vogliamo chiamarlo con una parola un po' impegnativa di poesia, ma più che altro è un esercizio di attenzione che, secondo una famosa frase ripetuta da Simone Weil, anche se è precedente, l'attenzione è la prima forma di preghiera e la preghiera, il desiderio, mi verrebbe da dire che è anche una forma da riscoprire all'interno, non in senso confessionale, ma di slancio verso la realtà. Alessandra ti farà l'ultima domanda. Ti chiedo però una cosa al volo prima di passare il microfono. Ieri sera parlavamo con Alessandra che alcune culture, quando nasce un bambino, piantano un albero. In Amazzonia alcune società tribali pensano che finché ci sono gli alberi c'è speranza. Ecco, abbiamo iniziato questa maratona parlando di speranza e di catastrofismo. Secondo te c'è un nesso, un connubio fra alberi e speranza? Sì, secondo me c'è anche perché è uno di quegli strani simboli universali, cioè in culture lontanissime, diversissime, che magari non hanno altri punti in contatto, però dire l'albero vuol dire appunto questa cosa, vuol dire la nascita, la vita, vuol dire il rapporto tra le generazioni, vuol dire anche uno strumento di misurazione del tempo, quindi vuol dire una presenza storica, vuol dire sì, credo che sia proprio così. In parte è già risposto perché la mia domanda aveva a che fare invece con il mestiere di scrittore, perché a volte uno pensa che avere campo libero in un'attività sia il meglio che gli può capitare, invece io per esperienza personale so che quando c'è un tema preciso a partire dal quale poi sviluppare chiaramente tutto il proprio pensiero è perfino più facile. Allora mi chiedevo se questa è anche la tua esperienza, qual è stato il vantaggio di avere come oggetto un essere vivente, quindi l'albero, e se tu hai riscontrato effettivamente qualche tipo di vantaggio nella creatività, ad esserti legato ai suoi rami e alle sue foglie? No, senz'altro sì, nel senso che a mio avviso l'esperienza, io parlo per la scrittura ma credo che valga per tante altre forme di espressione, in realtà quello che può essere percepito come limite, la regola per esempio, è di grande aiuto nell'espressione, anche nell'immaginazione. C'è una frase del discorso funebre di Svevo per Joyce, la commemorazione che Svevo fa di Joyce che mi ha sempre molto colpito, perché Svevo dice grosso modo, la sua immaginazione non poteva esprimersi se non in catene, che è un'immagine bellissima. Allora quelle catene a volte ce le scegliamo, a volte le scegliamo anche un po' lasche, così possiamo fare come Udini, liberarci e fare bella figura. Altre volte invece vengono benevolmente dall'esterno, come può essere nel caso appunto di un progetto più articolato come questo, ed è una bella provocazione, diciamo. Nel mio caso, come avevo accennato, l'idea di questa storia già un po' presisteva, però è stato quando poi è stata chiesta e quando ho provato a darle una forma che il sapere appunto di dover stare in questa regola della presenza della centralità dell'albero è stata molto importante. Dico un'ultimissima cosa sulla politica, che è questa, in realtà io l'ho pronunciato Bruegel, che è una pronuncia un po' come dire di compromesso, i fiamminghi lo chiamano ancora Bruegel, i francesi lo chiamano Bruegel e questo ci ricorda che c'è al centro d'Europa una zona dove ancora facciamo fatica a trovarci d'accordo sui nomi delle persone, sui cognomi delle persone, figuriamoci sul resto. Grazie Alessandro Zaccuri. Ricordo a tutti che per chi volesse nella libreria della politica sono in vendita i libri di tutti gli autori che intervistiamo, oltre che quelli di Marco Filoni e miei, e quindi ci sono anche i libri della casa editrice Abboca e il testo di Alessandro Zaccuri. Mentre invito il professore Armando Savignano a raggiungerci sul palco, sono le scale lì, poi naturalmente durante le pause gli autori che si sosseguiranno su questo palco li troverete lì per chi volesse farsi firmare le copie. Eccoci con Armando Savignano. Armando Savignano è professore di filosofia morale all'Università di Trieste e si occupa di problematiche, di tematiche legate all'etica e gli abbiamo dato una delle parole più impegnative, secondo me, da trattare oggi. Perché da studioso di filosofia e cultura ispanica ci siamo immaginati e quindi il Don Quixote che combatte contro i mulini a vento. Ecco, ad Armando abbiamo chiesto di provare a raccontarci se e perché nel caso la spinta che ci ha portati qui a dire dobbiamo fare qualcosa per l'ambiente non è una lotta contro i mulini a vento. Armando. Grazie a Marco Filoni, grazie agli organizzatori. Un saluto appena intravisto il mio amico ventennale Massimo Cacciari. Allora, sì, io ho accettato questa sfida che naturalmente è un po' lontana dalle questioni che si affrontano e che riguardano l'ambiente. Perché io mi occupo, come appunto diceva l'amico Marco Filoni, mi occupo di cose spagnole, veramente non di cose letterarie ma di quello che si chiama l'ispanismo filosofico, che è una nicchia degli studi di ispanistica. E però per qualche modo c'entra, nel senso che per qualche modo entra questo problema perché io ho sempre insegnato morale e quindi anche bioetica. Quindi da un certo punto di vista le questioni ambientali insomma le ho anche trattate dal punto di vista della bioetica. E comunque questo tema, molini a vento, quando mi è stato proposto mi ha molto affascinato perché in effetti è vero, voi lo conoscete, non ve lo leggo quel celebre brano di Don Quixote non è vero, che tutti conoscono, no? Non è il brano migliore di Cervantes ma insomma ce n'è di meglio in quel celebre romanzo, no? Che Don Quixote quindi combatte contro questi giganti, questi molini a vento, è vero dove lì il problema del rapporto realtà-immaginazione è vero realtà-sogno e effettivamente il tema cruciale di quel romanzo. E effettivamente, come dire, egli combatte con questi molini a vento con esiti che tutti conoscono, no? Con esiti tragici e questa è una provocazione anche per noi e anche per il tema di questo festival. Perché in realtà, come sembra, perché qui tutto è al condizionale, nel senso che persino qualcuno ha messo in dubbio l'esistenza di Cervantes, tra questi è una mule, il quale ha detto che Cervantes non è manco esistito. Quello che è esistito davvero è Don Quixote e quindi rovessando il problema. Dicevo però, sembra che erano circa trenta nella mancia, questi molini, che praticamente contro i quali si era scagliato il nostro Don Quixote. Non so se fosse vera questa notizia, ma insomma erano una trentina. Sì, grazie. Erano una trentina questi molini a vento in quella campagna che turbò Don Quixote. Naturalmente è un'inezia questo problema dei trenta molini contro i quali si scagliò Don Quixote. Se si considera, e qui entriamo un po' nel tema, che in Italia, per far sì che entro, come dicono gli ambientalisti e gli studiosi, entro il 2050 la produzione di energia eolica arriva al 26% del fabbisogno, sia necessario costruire un numero esorbitante di pale eoliche. Quindi altro che trenta molini a vento contro i quali si scagliava Don Quixote. Qui quante pale eoliche, è vero, bisognerebbe costruire per arrivare al fabbisogno del 26% della produzione di energia eolica. Quindi quei trenta molini, insomma, come dire, fanno sorridere. Quindi questi, appunto, queste pale che potremmo ancora, parafrasando la battaglia di Don Quixote, questi giganteschi manufatti alati. E quindi Don Quixote si scaglierebbe contro questi molini a vento redivivi perché si scaglierebbe Rancia e il resta scampiandoli per infidi giganti. Perché poi importa poco se Sancho Panza, che è il portavoce del buonsenso, come sapete, potrebbe esprimere qualche dissenso dicendo che sì, è meglio costruirle, queste pale, è vero, questi giganti addormentati, questi manufatti alati, è meglio farle. Perché in realtà noi ci dobbiamo domandare una cosa, no? E scusate questa provocazione che tale vuole rimanere. Perché dislocare queste cosiddette pale eoliche lungo, dalle lunghe braccia, lungo i nostri bellissimi declivi, le nostre colline, le nostre montagne, sugli appennini, mi pare, no? Dove naturalmente c'è molto vento, è vero. Si potrebbe provocare una devastazione anche ambientale. Noi costruiamo pure queste benedette pale. Ma che ne sarebbe poi di questi beni immateriali che è il nostro ambiente, a cui tanto si dono dedicati gli artisti? Pensate Giotto, no? Se noi questi declivi bellissimi, no? Queste belle colline marchigiane, eccetera, così magistralmente dipinte, Giotto, venissero inondate di pale eoliche. Ma che ne sarebbe del bene immateriale che è l'ambiente? Quindi, come dire, no? Questo è un problema, no? È un problema che noi non possiamo trascurare. Perciò bisogna interrogarsi su questo punto. se le pure importanti questioni energetiche non sono esenti da rischi derivanti dalla omogeneizzazione del paesaggio e soprattutto del paesaggio dei nostri colli, dei nostri declivi, delle nostre colline più belle, no? Che costituiscono beni artistici, no? Che costituiscono naturalmente i beni immateriali, non è vero. E questo, come voi sapete, adesso qui non insistiamo molto, naturalmente voi sapete che pertiene all'ambiente considerare gli oggetti naturali anche, non solo come beni che hanno valore in se stesso, ma anche come beni strumentali. E tra questi beni strumentali è esattamente la dimensione artistica, la dimensione paesaggistica, no? Che è un bene immateriale da preservare. E questo è estremamente importante. Non solo per gli aspetti economici, turistici, eccetera, ma per i beni artistici e paesaggistici in quanto tale. Occorre preservare questa ricchezza dei beni immateriali. E questo è un aspetto che non va trascurato in connessione appunto con le pure e legittime esigenze di queste paleoliche, quindi dell'energia alternativa di cui tanto qui parliamo. Armando, perdonami, vorrei interromperti perché questa questione che poni è molto importante. Anche perché io prima, un po' scherzando, un po' in maniera provocatoria, ho posto una sorta di idiosincrasia fra i filosofi e gli scienziati, no? Da un lato un po' paradossale, provocatoria, da un lato un po' vera. Ecco, allora, il concetto di natura, il concetto di natura che tu hai evocato è un concetto che riempie le pagine dei filosofi da quando esiste la filosofia. Allo stesso tempo, Alexander von Humboldt, c'è una bellissima biografia di Alexander von Humboldt che si intitola L'invenzione della natura. Ecco, secondo te, che cos'è la natura? Cioè, perché anche i filosofi possono dire qualcosa su questo concetto che mediamente noi consideriamo appannaggio dei scienziati o di coloro che studiano la realtà nei suoi fondamenti? Sì, dunque, questo è, come dire, come dice qualche altro scienziato, ma anche e soprattutto qualche altro filosofo, no? Qual è il vero problema del mondo contemporaneo? Che noi abbiamo dimenticato, o meglio, non sappiamo più bene, a partire dalle questioni bioetiche, non sappiamo più bene due concetti oggi che nel mondo, per esempio, classico e medievale erano chiarissime, no? e anche nel mondo antico, soprattutto per il mondo antico e il concetto di natura era molto chiaro che cosa significasse e per il mondo medievale era molto chiaro che cosa significasse persona. Questi due concetti, che cosa sia natura e che cosa sia persona, come dice un importante bioeticista, oggi nel nostro secolo e soprattutto nel secolo breve, noi lo sappiamo più bene. non avendo più un'idea chiara circa che cosa sia natura esattamente non riusciamo a disquisire e a orientarci nel mondo e quindi ora io qui dovrei cimentarmi con questo non piccolo problema di dire che cosa sia natura, no? Ma io se sapessi bene che cos'è natura oggi non starei solo al festival. Tuttavia mi permetterei di dire che oggi, come dire, più che natura noi parliamo di artificio ormai, no? La natura è la grande invenzione, no? È l'artificio e questo pone non pochi problemi. Quindi quando noi qui evochiamo questo concetto dobbiamo, è vero, mettere in campo tutto quello che concerne che cos'è l'artificio, che cos'è l'artefatto, eccetera, eccetera. Tuttavia lasciatemi anche aggiungere, per le cose che conosco, per le poche cose che conosco, che in realtà è vero, no? Che oggi c'è l'artificio. Ma possiamo davvero rinunciare a qualche concetto classico di natura? Io penso che qualche concetto classico di natura sia irrinunciabile, nonostante è vero, dobbiamo prendere atto che ci sia l'artificio, no? Con tutte le conseguenze che questa questione comporta. Ecco, io risponderei in questo modo. E io vorrei aggiungere, ringrazio Marco per questa domanda che mi sta molto a cuore e per aver introdotto la filosofia nella discussione sull'ambiente che senz'altro è utile, anzi è fondamentale per affrontare tutti questi nuovi temi che ci interrogano sulla natura. Vorrei ulteriormente aggiungere qualcosa alla domanda che Marco ha già fatto sperando di stimolare qualche altra riflessione. Oggi abbiamo iniziato a riconoscere la natura come persona. Esiste in diverse parti del mondo questo movimento per il riconoscimento, per esempio, dei diritti della natura in cui appunto alcuni ecosistemi addirittura sono riconosciuti come persone. Al tempo stesso l'individuo e quindi la persona non è più percepita o almeno non dovrebbe più essere percepita come qualcosa di totalmente separato dalla natura come era stato fatto in passato né tantomeno come qualcosa di superiore. Allora mi chiedo se queste evoluzioni del pensiero e anche del diritto stimolino qualche riflessione anche nel filosofo. La ringrazio molto perché nel seguito di questi pochi fogli che avevo preparato proprio discutevo questo in un piccolo problema. ma grazie perché lei è stata molto prevegente. Gli ho scritti esattamente questa cosa perché era ovvio, no? In realtà è questo il problema, no? e oggi con tutti i problemi dei diritti della natura e quindi quasi della personalizzazione, personificazione della natura, no? E quindi questo ci pone una serie di problemi. Naturalmente questo ormai è già assodato che la bioetica non riguarda più gli umani, no? Ormai noi siamo già alla terza rivoluzione in bioetica che non riguarda più gli umani ma non riguarda neanche più gli animali e con tutti i loro diritti che sono ancora rientrano, ovvero, nei viventi ma riguarda appunto la questione dell'ecosistema e la questione anche dell'intelligenza artificiale, della robotistica. Dunque le frontiere della bioetica siamo già ormai alla quarta frontiera della bioetica. Eccolo qua. E questo è l'artificio, no? Va bene. E quindi siamo a questa quarta frontiera. Naturalmente questo è molto importante perché pone nuove sfide per gli umani e ci fa dire esattamente questo, no? Che bisogna prendere atto di questi mutamenti e fronteggiarli naturalmente e non aspettarsi le risposte soltanto dal mondo della scienza. Questo è importantissimo perché ci fa capire, no? L'importanza della bioetica nelle questioni che riguardano appunto l'ecosistema e che riguardano la natura. Volevo dire che, allora, qui qual è il problema? Di superare all'interno di questa quarta rivoluzione in bioetica tutto quello che è antropocentrismo, no? Noi, per certi versi, abbiamo concepito, no? Per molti secoli, non è vero, il fatto che l'uomo sia al centro del mondo. In realtà oggi, con la quarta frontiera, con la quarta rivoluzione in bioetica, dobbiamo prendere atto che l'antropocentrismo in realtà è messo in discussione. naturalmente adesso non faccio una disquisizione su questo, se debba essere un antropocentrismo debole, forte, semidebole, eccetera, eccetera. Però, perché a questa, e faccio sempre un esempio su questo, in fondo il più grande antropocentrista era Kant, no? Il quale sosteneva che, come dire, a chi si deve il rispetto? Solo agli umani. Agli animali si deve massimo l'amore, no? Ed è qui tutto l'amore per gli animali, ma agli umani si deve il rispetto, il celebre imperativo kantiano. Naturalmente, a circa un secolo dopo, Kant, Peter Leopold, questa guardia forestale, che scrisse quel celebre libro, cosa sosteneva? Che c'è la comunità biotica, dunque al centro del mondo non c'è l'uomo, c'è la comunità biotica, perciò c'è l'uguaglianza biotica, per cui al centro non c'è l'uomo, ma ci sono tutti i viventi, tutti i viventi, umani e non umani. E dunque a questi bisogna considerare questo, no? Con tutte le conseguenze. E perciò quest'idea è fondamentale, con la quale dobbiamo cimentarci. Di qui molti interrogativi, naturalmente. Ma un posticino all'uomo, ce lo mettiamo? Oppure, come dice, no? Gaia, no? Che noi, come dire, no, scusate i miei paradossi, no? Gaia, insomma, se noi arriviamo a dire che come Gaia, quando vediamo un filo d'erba, dobbiamo evitarlo. Ma come facciamo a camminare se evitiamo il filo d'erba? Perché è un vivente, no? O no? Certo che il filo d'erba è un vivente. Quindi questo paradosso del filo d'erba che dobbiamo evitare di calpestare, e come insegna Gaia, e dobbiamo un pochino anche insomma prendere atto che un posticino dobbiamo pure darcelo all'uomo. Questo, capite bene, che pone una serie di problemi formidabili, perché tutte le civiltà, tutte le epoche, insomma, su che cosa si sono interrogati? Sulla visione del mondo. E in definitiva, io penso che, come dire, com'era la visione del mondo pre-copernicana, pre-galileiana? E oggi com'è la visione del mondo? Dove ci mettiamo in una specie di scacchiera? Gli umani, i non umani, l'ambiente, l'ecosistema, i robot? Dove li situiamo? Finché non abbiamo un'idea chiara su questo punto, cioè su una, quelle che ti descriviamo la Weltanschauung, quindi non è vero, e come facciamo a vivere? Come insegnava un altro spagnolo, qualche volta, fatemi citare uno spagnolo, via, dice Ortega e Gasset, noi, se non avessimo una visione del mondo, non potremmo alla fine vivere, perché saremmo come il naufrago. Il naufrago, che cosa vuol fare il naufrago? Qui siamo al mare, no? Anche a Trieste c'è il mare. E cosa fa il naufrago? Deve aggrapparsi a qualcosa di fermo, di stabile, aspira alla terraferma. La terraferma che cos'è? Avere una visione del mondo. Dove mettiamo gli umani, i non umani, gli animali, l'ecosistema, eccetera, eccetera. Dove li situiamo? Li mettiamo tutti uno uguali agli altri? Li mettiamo con qualche gerarchia? Come facciamo? Se non chiariamo questo, noi vivremo da naufraghi. Ma possiamo vivere da naufraghi? Beh, per quanto tempo, non lo so, se stiamo al mare, insomma, non so per quanto tempo ce la facciamo. Abbiamo bisogno di stare nella terraferma. Ve l'avevo detto che i filosofi sono catastrofisti. Grazie ad Armando Savigliano. Grazie a voi, è stato un piacere. e naturalmente da buon filosofo ci lascia con una domanda. Che posto rimane per l'uomo? Lo chiediamo? Lo chiediamo. Abbiamo un sacco di luciole. Proviamo? Ok. Intanto, sì, questo sembra di sì. Pronto? Eccoci. Allora, perfetto. No? Si sentono? Intanto chiamo Alessandro Chiarucci a raggiungerci sul palco. Un applauso ad Alessandro Chiarucci. Siamo? Eccoci. Proviamo con questo. No, ma c'è un problema di... però abbiamo gli uccellini che ci accompagnano. è un piacevole. Ecco, infatti con Armando Chiarucci grazie intanto di essere... con Alessandro Chiarucci grazie intanto di essere qui. Abbiamo scelto di parlare di biodiversità e proprio per questo abbiamo trovato piacevole questo sottofondo musicale perché Alessandro è il presidente della Società Botanica Italiana e viene a raccontarci un po' un'emergenza che molti conoscono, che ha a che vedere con la biodiversità, ma anche finalmente ci porta un po' di ottimismo perché ci parla di qualche possibile soluzione. A che punto siamo con questa biodiversità della quale sempre si sente dire sta sparendo, sta affinendo, diminuisce la biodiversità. Ieri sera Farinetti diceva l'Italia è il paese più biodiverso del mondo, abbiamo... lui parlava di quella naturalmente in campo alimentare, ma insomma è vero che in Italia c'è una grande biodiversità. Però che cosa sta succedendo? Dacci qualche aggiornamento. Allora, buongiorno a tutti, complimenti per l'iniziativa, grazie per avermi invitato a parlare di biodiversità dopo autorevoli di persone del mondo della comunicazione, della divulgazione. Io sono uno scienziato, non lo fa soltanto lo scienziato di mestiere, per almeno per adesso, poi mi presento sui palchi con voi ogni tanto e studio la biodiversità. La biodiversità è un oggetto estremamente complicato, difficile da comprendere, perché anzitutto come si definisce, proviamo a definirlo. La biodiversità si definisce, schematizzo, semplicizzo un po', come la quantità e la variabilità della vita del pianeta, che vive sul pianeta. Quindi ci sono due elementi, uno è la quantità, quanta ce n'è, ad esempio quante specie, quanti ecosistemi, quanta diversità genetica e uno è la qualità, cioè la differenza che ci sono tra gli individui, tra le specie, tra gli ecosistemi, che è un valore, anche questo. Quindi la biodiversità è fatta di numeri e differenze, come intitolavo un libro di un po' di anni fa, uno dei primi libri intitolato Biodiversity. Ad oggi il problema nostro dell'umanità è che abbiamo due certezze sulla biodiversità. Uno è che non sappiamo ancora quanta sia. conosciamo per darvi qualche numero circa due milioni di specie, cioè gli scienziati da quando abbiamo iniziato a classificare le specie col metodo di linee, insomma quello moderno con cui diamo i nomi alle specie, hanno elencato e descritto circa due milioni di specie. E sappiamo che sul pianeta ce ne sono almeno altre n, dove n è un numero che varia tra un altro milione e mezzo, cioè un totale di tre milioni e mezzo, o un totale di altri dieci milioni, qualcuno dice anche più. Quindi le stime più accreditate dicono circa 8,9 milioni di specie. Ne conosciamo due, capite bene, in due secole abbiamo descritto due milioni di specie, quanto rimane tempo necessario per descrivere, trovare le altre? Questa è la prima certezza. Sappiamo che è tanta, ma ne conosciamo poca. Seconda certezza, la biodiversità sta scomparendo a un ritmo come mai visto nella storia di questo pianeta, nella storia di miliardi di anni di questo pianeta, o meglio, questo ritmo si è visto in alcuni eventi catastrofici, definiti dai geologi come le grandi estinzioni di massa, ossia periodi in cui la vita apparentemente è scomparsa, si è ridotta drammaticamente nel record fossile. Questo oggi sappiamo che è dovuto all'uomo, è dovuto alla nostra attività, alla nostra preponderanza sugli ecosistemi. Sono stati citati già da chi mi ha preceduto su questa sedia alcuni elementi appunto dell'antropocentrismo, della visione della dominazione dell'uomo sulla natura. Questo è chiaramente, gli scienziati cercano di misurarla, vi do qualche numero così, tanto per dare delle informazioni, ma senza voler entrare nel merito scientifico. Un paio di anni fa sono usciti dei dati che dimostrano come la quantità in termini di peso di materia prodotta, degli oggetti prodotti dall'uomo, ha superato nel 2020 circa quella della biosfera. Cioè ci sono su questo pianeta più oggetti viventi della biosfera, quindi del materiale vivente, ci sono più oggetti, edifici, ponti, casi, automobili in termini di peso che non piante, alberi, animali, nelle foreste tutto il mondo e negli oceani tutto il pianeta. Già questo ci dà un'indicazione di quanto impattanti siamo su questo mondo. Un altro numero che vi do, ve ne potrei dare tanti, ma questo è abbastanza immediato a capire. Nella sterminata variabilità degli organismi un gruppo relativamente piccolo di organismi sono i mammiferi, quelli come noi, sono un gruppo di vertebrati terrestri, sono circa 7000 specie sul pianeta e nel 2018 un gruppo ha pubblicato una stima della biomassa di vari gruppi di organismi presenti sul pianeta delle 7000 specie di mammiferi che fanno un certo quantitativo di gigatonnellate di carbonio di peso insomma pensate il 32% sono gli umani siamo un terzo della biomassa di tutti i mammiferi terrestri circa il 64% sono gli animali domestici ossia le mucche i cavalli le pecore i maiali quelli di cui si nutrono gli umani rimane il 4% le altre specie 7000 circa pesano il 4% di tutta la biomassa umani e cibo per umani cibo per umani è un po' grossolano però insomma passatemi la semplificazione pesano il 96% questo ha un sacco di implicazioni ve ne dico due una estinzione riducendo i numeri si riducono e riducendo il peso si riducono i numeri di possibili individui e quindi si portano all'estinzione le specie due pandemia un virus dove andrà anche probabilisticamente a cadere se dovesse cadere in termini casuali nel 4% che è fatto da 7000 specie diverse o nel 32% o nel 64% che sono fatti da un modello relativamente semplice quindi questo impoverimento dell'ecosistema naturale della biodiversità naturale presenta anche dei rischi oltre che per la scomparsa di specie di cui potremmo anche non curarcene io credo che ce ne dobbiamo curare ovviamente poi ne parliamo Alessandra perché la tua domanda andava in quella direzione ma anche per termini egoistici verso l'uomo che sta diventando come dire una forma dominante di vita da essere anche così attraente per altre forme a noi ahimè poco desiderabili quindi tu dici tuteliamo gli ecosistemi serve anche per tutelare la nostra vita insomma è importante tutelare la biodiversità perché se non siamo biodiversi siamo più esposti siamo più a rischio l'abbiamo visto con il covid c'è un report molto interessante del WWF che dice che più ci avviciniamo agli ecosistemi incontaminati per esempio deforestando e maggiori sono i rischi di venire contaminati da qualche virus tipo il covid ma ce ne sono purtroppo veramente un numero spaventoso di questi virus il covid è uno in un mare magnum di virus che ci possiamo prendere se continuiamo a giocherellare insomma intorno ai pochissimi ecosistemi incontaminati che ancora ci sono sul pianeta però in realtà questi ecosistemi incontaminati bisognerebbe pure un po' reintrodurli perché io mi ricordo insomma ti ho proposto di venire qui perché ho sentito che tu hai un progetto molto bello che puoi portare avanti o stai portando avanti adesso ce lo racconti con la società botanica italiana che è quello proprio di riportare un po' la diversità vegetale e animale in Italia come? allora in Italia ce n'è tanta ancora di diversità di biodiversità siamo un paese molto biodiverso non solo dal punto di vista diciamo della biodiversità culturale ossia quella delle razze animali e vegetali che noi utilizziamo ma anche dal punto di vista di quella che sta negli ecosistemi questo grazie alla storia geologica e alla geografia del paese andiamo dalle Alpi alle isole del centro del Mediterraneo abbiamo un gradiente che va dal nord a sud con montagne pianure laghi ecosistemi fiumi estremamente diversificato e questo offre scasa diciamo a tantissime specie diverse l'idea a cui Alessandra fa riferimento è quella di che ho presentato già in un articolo non so se passano le slide ho dato un po' di slide se si vedono sullo schermo che lanciai già un paio di anni fa quando nel 2020 ci fu questa sezione del quotidiano La Repubblica dedicata all'ambiente si celebrava l'anno internazionale della biodiversità e una delle idee che lanciai fa riferimento permettetemi di dirlo di citarlo a quello che secondo me è uno dei più grandi pensatori dell'epoca moderna in questo senso Edward Osborne Wilson che è scomparso dicembre 2021 e che era professore merito e che ha lasciato un grande segno è stato anche un grande scrittore ha vinto due premi Pulitzer tantissimi dei suoi testi sono tradotti anche in italiano Edward Wilson negli ultimi anni della sua vita ha fatto questa questa affermazione che poi ho provato a declinare nel progetto nel progetto che Alessandra prima menzionava ha detto rendendosi conto di questa di questa perdita di questa erosione di biodiversità di cui vi parlavo prima ha proposto un nuovo grande patto tra uomo e natura per permettere alle specie alla biodiversità che con noi vive su questo pianeta dice Wilson di sopravvivere all'antroposcena all'epoca in cui noi dominiamo così tanto la biosfera dobbiamo fare un nuovo patto metà del pianeta per noi Alfa Hertz l'ha chiamato metà del pianeta metà del pianeta per gli esseri umani e metà per le altre forme di vita metà del pianeta è un obiettivo irraggiungibile in questo momento perché gli uomini utilizzano già più di metà del pianeta per l'agricoltura per l'estrazione per le città per gli insediamenti per tutto quello che vogliamo sia in terra che in mare sulle terre almeno il 70-75% e sui mari ancora una proporzione simile quindi grossa proporzione quindi è necessario dedicare degli spazi alla natura soltanto ai processi naturali e questa idea l'ho chiamata le arche di noi della biodiversità ossia dei lembi di territorio in cui l'uomo anche in Italia possiamo dedicarne degli spazi rinuncia a fare un'azione di controllo diretto del processo naturale ad esempio disboscando escavando costruendo strade qualsiasi sia il processo dedicando un 10% al territorio poi vi dico perché il 10% un 10% del territorio a preservare i soli processi naturali formando cioè una sorta di arche di noè di arche di noè per permettere a questi organismi che con noi vivono su questo pianeta che sono tanti non sappiamo quanti sono ve l'ho detto prima di sopravvivere al nostro impatto sostanzialmente queste arche di noè le le ipotizzate come abbiamo menzionato piantare gli alberi prima le culture che piantano gli alberi nasce un bambino e si pianta un albero oppure ora va di moda un albero va di moda è una campagna diciamo sia nazionale delle varie regioni che anche europea piantiamo un albero per ciascun cittadino l'idea l'ho declinata più o meno nella stessa maniera anziché piantare un singolo albero dedicare 500 metri quadrati per ciascun cittadino lasciare indisturbati cioè in cui ci impegniamo a non farci la strada a non costruire a non tagliare il bosco questi 500 metri quadrati più o meno corrisponderebbero al 10% del territorio che più o meno non è neppure tanto difficile sono dei problemi di topografia perché ovviamente è facile lasciare le alte montagne è più difficile rinunciare a spazi in pianura l'uomo è un animale di pianura essenzialmente quindi con questa idea di un impegno collettivo verso il rispetto di una frazione relativamente piccola del territorio in modo integrale ovviamente va rispettato una frazione più grande del territorio in modo non integrale ma va rispettata permetterebbe di avere questi serbatoi di biodiversità in cui processi naturali ed ecologici possano continuare a svilupparsi a maturare e lasciare quindi uno scrigno perché si tratta di uno scrigno non ne traiamo dei benefici immediati in realtà sì poi se volete ve li dico non ne traiamo dei benefici immediati ma uno scrigno che i nostri figli i nostri nipoti potranno aprire in futuro per valutare quante eredità di questo pianeta abbiamo lasciato sarà comunque meno rendiamocene conto sarà comunque meno di quella che abbiamo visto noi la biodiversità che lasceremo ai nostri figli una domanda è molto bella questa cosa che ci stai raccontando la leghi anche all'orto una delle parole di questo alfabeto il cambiamento è orto e siccome ti occupi anche di orti botanici perché stai sistemando l'orto botanico di Bologna che speriamo il prossimo anno sarà aperto cos'è l'orto botanico in questa prospettiva dell'arca come scrigno della natura come scrigno da lasciare a figli e nipoti ok qui la domanda è molto complessa l'orto botanico la conoscete tutti qui siamo vicinissimi a Padova che è anche elencato come patrimonio dell'UNESCO quindi l'orto botanico nasce nascono in Italia gli orti botanici già questo è un orgoglio del nostro paese per una serie di botanici connessi tra vari atenei diciamo dell'Italia centro settentrionale da Ghini poi da Luca Ghini e nascono come uno spazio circoscritto in cui si mostra ai cittadini con due obiettivi diciamo si mostra ai cittadini la bellezza delle piante la varietà delle piante e due si mostra ai medici la diversità delle piante che venivano utilizzate per creare i medicinali si chiamavano i giardini dei semplici il semplice era la pianta il composto diventava il medicinale quindi il medico non avendo come dire tanti mezzi doveva vedere in natura coltivate quelle piante che sarebbero servite a realizzare i propri i propri medicamenti bene l'orto botanico tipicamente ha avuto questo ruolo di esibizione di mostra adesso gli orti botanici hanno assurdo anche ruoli diversi ad esempio la conservazione ex situ in molti orti botanici si preservano specie di piante sotto forma di semi nelle banche del germoplasma o in coltivazione piante che magari sono scomparse o sono a rischio di scomparsa in natura come si possono collegare queste due cose sono due aspetti diversi della conservazione uno è conservare in un luogo ristretto e controllato all'orto botanico il patrimonio genetico il seme la pianta hanno anche l'aspetto storico e culturale però questo è diverso anche educativo ovviamente l'altro è quello di conservare in natura invece i processi che non sono tanto gli oggetti fisici la pianta o il seme ma il processo naturale di interazione tra le piante e i microorganismi del suolo perché questi processi non so se si vedono i slide ce n'è una con un pino che passa ogni tanto sono estremamente lunghi vanno fuori dalla nostra scala dei tempi quel pino lì si chiama Italus l'ha scoperto l'ha datato il mio amico e collega Gianluca Piovesan dell'università della Tuscia e sta in Calabria sul Pollino ha la venerabilità di 1260 anni circa datato a un radiocarbonio cioè questo pino quando c'era Carlo Magno era già là capito? e quindi lo pensiamo come un albero che ha interagito con un suolo con dei funghi con degli uccelli con dei coleotteri che vivevano là mille anni fa il patrimonio genetico di questo pino è nato da due pini di 1200 anni fa è un patrimonio genetico che può essere estremamente importante anche per i cambiamenti climatici pensate questo le foreste primarie sono quelle che non sono mai state intaccate dall'uomo si è dimostrato che sono più resistenti ai cambiamenti climatici in termini di deperimento delle singole piante e sono meno suscettibili all'incendio tant'è che Biden ha appena da poco fatto una legge per proteggere in modo integrale l'archedino è più o meno il concetto che dicevo io tutte le foreste primarie degli Stati Uniti d'America cioè in cui non si potrà più mettere mano stanno facendo il censimento e protezione ecco e noi a che punto siamo perché adesso abbiamo cambiato per esempio la Costituzione abbiamo cambiato questi due articoli della Costituzione abbiamo la Costituzione italiana della quale sempre giustamente anche un po' ci inorgogliamo già tutelava il paesaggio poi ne parleremo con Serenella Jovino adesso in più tutela la biodiversità e tutela in particolare gli animali dal mio punto di vista ha dimenticato una cosa fondamentale cioè di tutelare anche le piante ma insomma che passo avanti abbiamo fatto intanto allora secondo me è un passo avanti fondamentale perché la tutela del paesaggio se ci pensiamo per tutti noi il paesaggio è un valore economico anche un valore sociale culturale di legame il paesaggio però è come noi percepiamo la natura o meglio l'interazione tra uomo e natura perché il paesaggio spesso è quello agricolo che è ben diverso dalla natura l'agricoltura non è natura è gestione dell'uomo di alcune risorse naturali per un fine produttivo per alimentazione ovviamente il paesaggio quindi è un concetto estremamente legato alla nostra cultura mentre riconoscere il valore intrinseco della biodiversità della vita non umana diciamo perché la biodiversità raccoglie tutto raccoglie le piante gli animali ma anche funghi che spesso sono molto poco considerati ma senza funghi non ci sarebbe il decadimento della sostanza organica quindi i cicli del carbonio sarebbero totalmente non funzionali quindi avere incluso il concetto e tutela della biodiversità nella nostra costituzione credo rappresenti un passo avanti nel costruire una relazione tra noi esseri umani e gemoni su questo pianeta e gli altri viventi importante quindi nel costruire un tipo di vita assieme tra noi e gli altri esseri viventi fondato su un principio in cui l'uomo che è quello che legifera riconosce i diritti tu menzionavi i diritti degli altri i diritti degli animali i diritti delle piante i diritti degli ecosistemi mi viene in mente di nuovo citando Wilson che Wilson uno dei suoi più grandi lavori è stato quello di introdurre il concetto della biofilia cioè l'amore l'affinità per la vita di per sé che è un sentimento molto importante che forse nella nostra società negli ultimi decenni si è un po' perso per lo sviluppo tecnologico la tecnologia spesso ha drogato un po' il sistema facendoci vedere tutto poteva essere rifatto trasformato dall'uomo però poi quando uno va sulle dolomiti vede le dolomiti quando uno va in un bel bosco sotto una bella quercia percepisce un sentimento di pace questa biofilia oppure un cucciolo di un animale insomma per farla più semplice un delfino quello che volete quindi questa biofilia è un sentimento innato e che in qualche modo viene formalizzato nel riconoscere dei diritti e io sono estremamente felice di questo che questo fatto sia stato introdotto nella Costituzione quindi che tutti diciamo sempre una delle più belle Costituzioni dei paesi occidentali che adesso riconosce la biodiversità come un valore comune e di cui abbiamo una responsabilità comune perché il senso importante di quello che sto cercando di dire in questo è che la biodiversità vive anche senza di noi sia ben chiaro dopo l'uomo ci sarà la biodiversità potremo estinguere nel 50% potremo estinguere nell'80 al 90 al 95% ma ci estingueremo noi e la vita tornerà a fiorire è successo così in tutte le grandi estinzioni di massa dopo gli asteroidi dopo le crisi climatiche quindi la vita è sempre rifiorita quello il senso di responsabilità di cui dobbiamo farci carico è questa vita quella che c'è oggi su questo pianeta che noi abbiamo ricevuto nella nostra generazione e che la generazione dopo di noi potrebbe non vedere si stima esiste un organismo tutti conoscete l'IPCC il panel intergovernativo sul cambiamento climatico esiste un analogo più giovane che si chiama AIPBES che è il panel internazionale sulla biodiversità e servizi ecosistemici che stima che un milione di specie un milione di specie diverse andranno estinte da qui a fine di questo secolo cioè nella vita di mia figlia di mia figlia dei vostri figli dei nipoti perderemo un milione di specie almeno quindi questo è un impoverimento mi viene in mente avete visto in questi giorni lo scandalo giusto ovviamente che c'è stato per l'avere imbrattato un Van Gogh cioè è stato uno scandalo in cui tutto il mondo si è sollevato quello era il loro scopo e secondo me l'hanno raggiunto loro facevano per una questione climatica però noi stiamo perdendo le biodiversità del pianeta che sono degli oggetti che non si potranno mai ricostruire come sono degli oggetti viventi e nessuno si scandalizza i tassi di estinzione delle specie odierni sono fra i mille e diecimila volte l'estinzione c'è sempre stata in natura i dinosauri li abbiamo visti e non ci sono più l'estinzione c'è sempre stata in natura noi siamo determiniamo un tasso di estinzione fra i mille e diecimila volte più alto di quello che la natura ha fatto nella sua storia e nessuno si scandalizza come invece si scandalizziamo giustamente era una provocazione ovviamente per avere imbrattato di vernice o non mi ricordo di cosa un prodotto dell'uomo c'era il vetro però c'era il vetro sì c'era il vetro era chiaramente studiata come provocazione climatica come del clima posso aggiungere anche del clima è ottobre fine ottobre siamo fuori maniche di camicia tutto sommato è che della biodiversità che perdiamo noi in realtà poco ci accorgiamo perché tantissima di questa biodiversità che va perduta non la conosciamo non la frequentiamo non abbiamo capito che in quelle piante in quegli animali c'è la cura probabilmente di tante malattie ci sono dei rimedi che possono aiutarci a vivere meglio c'è una parte fondamentale del nostro stare bene al mondo io adesso siamo arrivati al termine di questa prima parte della maratona volevo lasciarti con un'ultima domanda che ha a che fare abbiamo Giuseppe Lupo che ci ha raggiunto che inviterei sul palco non appena abbiamo finito sì 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 allora proprio una battuta rapidissima sul fatto che queste arche non sono delle oasi cioè non sono delle oasi come l'oasi del WWF per dire in senso tradizionale sono proprio dei posti in cui noi non dobbiamo assolutamente mettere le mani allora l'idea è che poi sono in cita anche della strategia europea per la biodiversità uscita anche quella nel 2020 cioè dei lembi di terra perché speriamo a farne il 30% sia per la strategia mondiale di biodiversità che per quella europea il 30% di aree protette però molte aree protette sono delle aree in cui ad esempio c'è agricoltura e gestione in un terzo di queste dice la strategia europea bisogna rinunciare a essere il processo dominante quindi a trasformare gli ecosistemi in maniera diretta poi il problema se andarci fisicamente attraverso ad esempio a passeggiare o no questo non è ancora chiaro però l'importante è che l'uomo non sia l'attore principale dei processi ecologici attraverso ad esempio la silvicoltura o attraverso altre attività ti ringrazio grazie Alessandro Chiarucci grazie Alessandro grazie mille allora non siamo come mentana che facciamo le maratone senza noi ci fermeremo a mangiare qualcosa quindi salutiamo il nostro ultimo ospite di questa sessione mattutina Giuseppe Lupo grazie mi scuso per il ritardo ma non dipendeva da me c'è stata una linea benvenuto benvenuto allora a Lupo chiederei subito in qualità di scrittore di nuovo un punto di vista che poi è un po' la stessa domanda con la quale abbiamo salutato prima Zaccuri cioè perché lei ha accettato la sfida lanciata dalla casa elettrice a Boca di partire da un albero per scrivere un libro e che cosa questo vincolo iniziale che le è stato posto l'ha ha modificato diciamo la sua creatività e l'ha ispirata in qualche modo beh allora ogni scrittore grazie per l'invito ovviamente ogni scrittore secondo me non soltanto quelli che pubblichano per la Boca ma per il fatto stesso di avere a che fare con la carta e il tema della carta per me rimane fondamentale per quando si parla di libri deve porsi problema perché accetti la sfida tutte le volte che io scrivo un libro mi domando sempre perché dovrebbero morire degli alberi per far vivere il mio libro se lo domandassero tanti esatto secondo me questo è un problema che dovrebbero chiedersene molto cioè andando in una libreria 10.000 titoli uno si chiede io me lo chiedo con tutto il rispetto per i colleghi ma anche per me stesso perché dovrebbero morire gli alberi la risposta è dovrebbe essere perché un libro è necessario ecco se un libro è necessario vale la pena che gli alberi muoiano perché poi in realtà gli alberi non muoiono ma diventano un libro e diventano un libro cioè diventano qualcosa di vivo io ho l'illusione che un libro sia qualcosa di vivo scusa ti interrompo perché so che tu sei uno specialista di Kafka se Max Brode non avesse tradito le volontà di Kafka non avremmo uno dei grandi capolavori della letteratura mondiale ma pure Virgilia aveva detto di distruggere tutto e meno male che qualcuno non ha sentito non bisogna mai ascoltare secondo me le ultime volontà perché possono c'è sospetto che siano modificate però vengo alla risposta quindi quello è il problema di tutti i libri sono necessari dobbiamo scrivere cose necessarie se non è necessario non lo scriviamo e non facciamo morire gli alberi con l'illusione che non muoiono del tutto perché poi vivono nei libri cioè nelle parole la casa che dice Aboka aveva questa sfida costruire una collana ne avete parlato beh come si dice dalle parti dove sono nato io sono nato sull'appennino si incontra l'animale col piombo che è una metafora molto particolare cioè c'è un uccello che vola il piombo del cacciatore lo incontra lo so che in questo contesto suona male ma è esattamente quello che cioè l'incontro di uno di noi ciascuno di noi a volte ha bisogno di qualcuno che lo solleciti su alcune cose per scrivere quel libro quindi si incontra l'albero facendo la carta si incontra non si incontra l'albero con l'albero si incontra una storia che probabilmente io avevo in mente da tempo con la sollecitazione della casa di dice perché non fai un libro su un albero ecco io magari quel libro non l'avrei scritto perché non avrei avuto il coraggio di dire voglio fare un libro sull'albero è venuto fuori questa sollecitazione e da lì è uscito fuori l'incontro il pioppo io ho scelto un pioppo perché ci sono dei motivi legati al fatto che questo albero secondo me ha una fisionomia molto buffa perché da un lato è un albero ordinato tipicamente padano io non sono un padano ma vivo in pianura padana cioè a Milano da un sacco di decenni e i pioppi sono sempre uno a fila l'altro sono alberi geometrici matematici ordinati organizzati dall'altro lato il pioppo è buffo sembrano i pennacchi dei carabinieri di Pinocchio e io ho una particolare come dire un legame con i pioppi perché mi ricordano determinate cose perché mi piacciono i fiori dei pioppi quando esplodono in primavera perché sembrano tanti coriandoli e sembrano dare una sensazione di grande festa insomma ecco quest'albero era dentro di me l'editore mi ha chiesto di fare un libro su un albero e ha detto facciamo un libro su un pioppio io capisco da come parla che insomma è stato già curato da quella che gli scienziati chiamano la plant blindness cioè da questa incapacità che un po' tutti condividiamo di vedere la natura intorno a noi capisco che lei questa malattia non ce l'ha perché gli alberi li osserva molto bene quantomeno i pioppi ma io volevo capire attraverso le pagine di uno scrittore se noi possiamo curare anche gli altri cioè se raccontare un albero può contribuire come diceva prima Zaccuri a farcelo vedere allora se noi pensiamo che un libro debba insegnare qualcosa a qualcuno secondo me sbagliamo almeno io mi pongo il problema che un libro non deve essere pedagogico cioè le storie che raccontiamo devono significare ma non devono voler insegnare nulla perché sennò poi entriamo in una come dire una spirale pericolosa scusi ma di un romanzo o di ogni libro? beh allora questo che ho detto io può sembrare provocatorio io mi riferivo alla narrativa ai romanzi cioè alle opere diciamo invenzione creativa però secondo me forse questa stessa legge potrebbe anche essere applicata a un saggio cioè un saggio è un ragionamento un'analisi un ragionamento fatto intorno a un tema perfetto che non è necessariamente un tema su cui dobbiamo dire è così o non è così la verità è questa bisogna stare attenti bisogna sempre io almeno diffido delle persone che hanno la verità la verità è una cosa un po' come dire meglio lasciata da parte cioè io ti propongo una soluzione ti propongo un'idea ti propongo un'interpretazione che è un'altra cosa cerco di comprendere il tuo smarrimento e ti dico quello che io penso questo vale anche per i saggi cioè i toni assertori i toni predicatori non funzionano perché spesso ottengono l'effetto contrario e questo lo dico anche in un festival dove per esempio sul tema della natura della salvaguardia del paesaggio perfetto ma quanta irritazione provoca in noi almeno in me quando c'è qualcuno che vuole a tutti i costi impormi che il paesaggio va rispettato che il paesaggio va tutelato lo sappiamo ma non deve diventare un precetto è un discorso complicato quello che sto facendo però io mi rendo conto che è così cioè le posizioni talebane su certe cose ottengono l'effetto contrario allora io ti propongo una interpretazione se non ti conviene va bene però è un'interpretazione mi avete capito assolutamente tra l'altro discutevamo di queste esattamente mi sono trovato chiedo scusi mi sono trovato in un festival sull'Appennino pistoiese dove volevano tutti i costi che io dicessi se terminate cose solo perché vengono dall'Appennino e ho scritto le cose sull'Appennino ma l'Appennino che ho io è un'altra cosa rispetto a quello che avevano loro e loro volevano manipolare quello che io dovevo dire e non funziona così no no ma discutevamo di queste cose qualche giorno fa su questo palco perché Chiara Valerio presentava un libro di Enrico Pedemonte esattamente su questo problema sulla comunicazione della scienza cioè su quanto è difficile perché estrapolando e portando agli eccessi questo tuo discorso naturalmente abbiamo i Novax abbiamo i negazionisti della scienza abbiamo i terrapiattisti abbiamo la difficoltà io sono d'accordo con te quando mi dici la verità lasciamola a chi se ne deve occupare cioè ai preti ai teologi a chi a volte anche ai filosofi insomma però la scienza ha un problema nel senso che la scienza ci insegna la scienza deve essere coltivare il dubbio la scienza non ha sempre verità di fronte a ciò che abbiamo assistito durante la pandemia era questo spettacolo in cui virologi epidemiologi o scienziati andavano in televisione e dicevano si fa così poi subito dopo un altro diceva si fa cosa e noi comuni mortali che non abbiamo le competenze per comprendere le cose da seguire naturalmente eravamo confusi cercavamo verità e naturalmente non c'è nulla di più umano in questo io ho paura e cerco qualcuno che mi rassicuri come con la verità quindi io capisco effettivamente questo discorso ma c'è un problema nel momento in cui la scienza deve comunicare e non lo sa fare ed è il motivo per cui bisognerebbe che ci fossero figure come quella di Alessandra molte di più nel senso di coloro che sanno cos'è la scienza e sanno cos'è la comunicazione della scienza in Germania ad esempio un paese dove la premier aveva un dottorato in una disciplina scientifica è stata fatta un'equipe di comunicazione della crisi pandemica e naturalmente non ci sono state quelle penose situazioni quelle penose momenti televisivi in cui tutti litigavano con gli altri e nessuno capiva cosa bisognava fare ci dobbiamo chiudere non ci dobbiamo chiudere ci dobbiamo stringere le mani dobbiamo mettere la mascherina perché c'era sempre qualcuno che diceva il contrario quindi sulla verità sono totalmente d'accordo però c'è un però quando parliamo di natura quando parliamo di ambiente quando parliamo di salvaguardia togliamo l'ortodossia togliamo l'ideologia però facciamo qualcosa ovviamente sì ma posti in questi termini tutti ti risponderanno alla stessa maniera certo che dobbiamo fare qualcosa nessuno verrà mai a negare la necessità di dover fare allora c'è un problema di comunicazione l'abbiamo capito però c'è anche un problema di credibilità cioè io penso che nel caso appunto specifico della pandemia la delegittimazione vicendevole tra gli scienziati derivasse dal fatto a. non sapevano nulla b. la scienza è litigiosa da sempre deve essere così perché guai se tutti fossero d'accordo soprattutto di fronte a un fenomeno nuovo c. nessuno aveva l'autorevolezza di avere l'ultima parola su tutto perché è naturale che fosse così quindi ma sul paesaggio o sulla biodiversità o sulla natura abbiamo capito cioè non c'è questa difformità di opinioni però deve esserci un problema di comunicazione di chiamiamola autorevolezza capacità di comunicare capacità di essere convinti di convincere cioè io ho un'impressione che è questa quindi fermo restando che siamo d'accordo fermo restando che siamo certo che ti venga a dire il paesaggio però siamo convinti di una cosa che così come abbiamo declinato l'idea della della contrapposizione alla modernità all'ipertecnologia e all'invasione della tecnologia che ha rovinato la natura il paesaggio sono convinto che bisognerebbe trovare una come dire una via di mezzo cioè non è stata non è quella la strategia giusta elaborata per diventare convincente perché se lo fosse stata ci saremmo tutti convinti che quella era la via giusta non so se mi sono fatto cioè non è detto che quella fosse la strada migliore per rendere convincente la tutela del paesaggio la salvaguardia e tutto il resto forse ci sarebbe da individuare un'altra strada sì forse dovrebbe essere una via più convincente cioè abbiamo declinato è stata declinata la contrapposizione alla modernità spinta in maniera non del tutto convincente io ho questa impressione e qui torniamo al ruolo dell'autore del narratore perché poi non basta fare informazione in senso puro non bastano i dati non bastano le statistiche che spesso sono peraltro di difficile decifrazione è importante forse un concorso di elementi per cambiare punto di vista per assumere una nuova posizione rispetto a un fatto nuovo quindi qual è il ruolo a questo punto le chiederei del romanzo e dello scrittore beh il romanzo o lo scrittore o un'opera di letteratura un'opera narrativa deve nascere sicuramente da una competenza e io e mi permetto di giudicare che spesso tante opere che arrivano in libreria non sono composte da persone competenti lo scrivono per moda ma non perché siano competenti in quel settore prima cosa seconda cosa la competenza che un autore ci mette o dovrebbe mettere all'interno di un'opera serve a renderlo credibile cioè io continuo a pensare una cosa che dirò in modo provocatorio ma tornare indietro non possiamo tornare indietro cioè la tecnologia le conquiste l'utilità di questi strumenti sono irrinunciabili allora diffido molto di quelle persone che vogliono tornare all'acqua fredda perché l'acqua calda inquina perché gli sistemi per l'acqua calda inquinano oppure attenzione io penso che sia necessario percorrere la strada di una modernità o di un'ipermodernità credibile ora su questo termine credibile su questo aggettivo forse ci sarebbe da investire che cosa vuol dire una modernità credibile vuol dire trovare come dicevo prima una via di mezzo una terza via cioè tra il negare la modernità o spingere sulla modernità sapendo a dove ci ha portato trovare una terza via una modernità credibile e qui però la modernità credibile non è andare a vivere sotto la tenda senza riscaldamento senza cioè la modernità credibile si declina in un altro modo ecco sarei felice per esempio di leggere un libro di leggere un romanzo un'opera letteraria magari anche distopica cioè anche proiettata in un futuro dove chi scrive sia credibile nel farmi capire che cosa si intende per modernità credibile che non è la decrescita felice per esempio perché quella è stata un'altra cosa che ci ha affascinati ma non ci ha come si dice convinto a me non mi ha convinto ma a me sembra che passi questa terza via attraverso la coscienza la comprensione accennavamo prima uno del la cosa dicevi della tecnologia è senz'altro vera noi oggi non possiamo più vivere senza questi cosi e ci dicono che questi cosi pongono dei problemi molto grandi tra l'altro ne parleremo nel primo pomeriggio con un paio di ospiti problemi anche democratici visto che siamo fessi della politica perché la politica è cambiata completamente da quando esistono i social network e da quando esistono il rapporto con la tecnologia è diventato così dirimente nelle nostre vite però paradossalmente a me pare e ti chiedo se hai questa stessa sensazione che la risoluzione di questa cosa passi proprio attraverso la tecnologia cioè non è che noi risolveremo mi sembra una parola un po' grande però non è che noi davvero prenderemo coscienza della pericolosità del divario c'era un filosofo famoso del novecento si chiama Günther Anders che diceva lo chiamava lo scarto prometeico cioè lo scarto tra la comprensione di ciò che la tecnologia può fare cioè noi sappiamo se noi facciamo un'azione un gesto sappiamo quali possono essere le conseguenze di questo gesto invece con l'utilizzo della tecnologia spesso noi non sappiamo e c'è uno scarto fra l'azione che noi vogliamo attuare e poi la reale insomma operazione che viene fatta attraverso il mezzo tecnologico ecco oggi forse noi questa coscienza la possiamo acquisire proprio grazie alla tecnologia ti dirò di più sì la tecnologia ci potrebbe inguaiare o ci ha inguaiato la tecnologia ci deve salvare cioè qui sta secondo me questa terza via di cui voglio dire tra l'altro scusati interrompo tra l'altro basta con la demonizzazione cioè il andare a vivere su all'eremo dove mi faccio la doccia fredda significa che se ti rompi una gamba o se ti devi operare poi al chirurgo gli dici no non usare per favore quella macchina che mi potrà salvare la vita perché è tecnologia e no allora così non funziona allora noi dobbiamo renderci conto che la tecnologia insomma è quella che ci permette di campare bene campare più a lungo ci risolve la vita è qualcosa che ci fa comodo perché io sto qui e se ho bisogno di chiedere a qualcuno del festival gli mando un messaggino e ho risolto un problema in tre secondi nonostante stia facendo qualcos'altro ecco quindi la demonizzazione fa parte di quell'ideologia di cui parlavi cioè mi sta sulle scatole di quella di quella posizione intransigente talebana no che però non porta e che non fa diventare credibile allora se lei è vero che questa tecnologia ci potrà condannare è lei che ci dovrà salvare dipende dall'uso faccio questo esempio c'è stato a proposito della pandemia post pandemia la retorica dei borghi fuggiamo dalle città andiamo a vivere nei borghi parleremo dopo non voglio bruciare però dico la mia posizione io vengo da un borgo ci hanno insegnato da 300 anni che il destino dell'uomo dell'uomo moderno è nelle città e noi abbiamo obbedito a questa logica che è la logica dei filosofi improvvisamente con la pandemia scopriamo la bellezza dei borghi eppure retorica ma è retorica che non porta a nessuna parte allora quando i borghi saranno attrezzati affinché chi ci abita non debba sentire di vivere in una condizione di serie B come la mia quando 41 anni fa sono venuto via dalla Basilicata e come ci vivono tutti tutti quelli che vivono nei borghi dall'Appennino Piacentino fino alla Sila allora noi daremo dignità ai borghi e potremo essere credibili ecco torniamo al discorso della credibilità ma se continuiamo con questa idea andiamo a vivere nei borghi il milanese nei borghi vive sette giorni come una grande vacanza dopo sette giorni quando capirà che ci sono problemi di logistica di servizi di scuole di sanità dice io me ne vado ho finito la vacanza cioè mi sembra quell'atteggiamento esotico dell'occidentale che nel settecento voleva andare a scoprire l'isola di venerdì l'esotismo allora quella è soltanto retorica non progettuale e questa non progettualità secondo me ci porta a queste fughe estemporanee che però non risolvono il problema e lo risolviamo dicendo via internet via voglio dire via internet significa via questi strumenti via cioè demonizziamo la tecnologia no ci salveremo con la tecnologia mio padre è campato con la chimica perché a 50 anni sarebbe morto se non ci fosse stata la chimica allora il problema non è la chimica è come usiamo la chimica affinché porti benefici bene grazie Giuseppe Lupo ci rivediamo qui alle due e mezza per il seguito della maratona grazie a tutti grazie a tutti